ciao ragazzi io sono riccardo bentornati nel mio canale youtube e nel mio piccolo laboratorio sono due i motivi per cui state vedendo questo video o è arrivata la notifica perché siete iscritti al mio canale e avete attivato le notifiche cliccando sulla campanella qua giù oppure avete cercato su youtube come si salda a stagno bene io oggi voglio fare un video nel quale vi spiegherò come io saldo a stagno sono soddisfatto nelle mie saldature consapevole del fatto che io non essendo un professionista non otterrò mai delle saldature bellissime da vedere ma riuscirò a ottenere delle saldature di due capi elettrici che terranno nel tempo ora faremo un paio di esempi quelli che io ritengo più semplici e lo farò esattamente nello stesso modo in cui lo spiegherei ad un amico non utilizzerò termini tecnici semplicemente vi farò vedere passo passo tutto quello che serve per ottenere un unione duratura nel tempo di due cavi quindi iniziamo vediamo innanzitutto cosa è necessario per poter saldare lo stagno un saldatore che possa essere a corrente elettrica che possa essere a batterie oppure che possa essere a gas in questo caso utilizzerò il saldatore ricaricabile della weddinger con l'occasione vi faccio anche una rapida recensione e vi lascerò il link per poterlo comprare è un prodotto molto utile che si presta bene in tutte quelle occasioni dove non abbiamo la possibilità di collegare l'alimentazione elettrica infatti questo video nasce proprio da uno scambio di idee con un amico che mi ha chiamato per sistemare l'autoradio voleva saldare i cavi per i collegamenti perché il nastro isolante col passare del tempo si era sciolto tutto e c'era stato un contatto tra due cavi quindi abbiamo deciso di saldare e abbiamo deciso di utilizzare le guaine termorestringenti questo video ovviamente è dedicato a chi non sa saldare tutti i professionisti del settore della saldatura che capitano in questo video possono intervenire giù nei commenti in modo da aiutare ulteriormente chi ha bisogno di consigli quindi scrivete commentate e date anche le vostre opinioni allora per poter saldare dei cavi è necessario innanzitutto liberare il rame è coperto dalla guaina o guaina allora in questo caso io utilizzerò queste forbici che mi danno la possibilità anche di spellare semplicemente stringendo in questo modo e poi tirando ma potete utilizzare tranquillamente anche un coltello delle forbici tutto quello che preferite facendo attenzione a non tagliare anche il rame comunque sia una volta liberato il rame dobbiamo unirlo saldandolo e per poterlo fare esistono diversi modi io ve ne consiglierò un paio quelli che utilizzo e quelli che ritengo più pratici allora il più pratico di tutti secondo me è quello di unire fra di loro i cavi preventivamente questo ci permette di avere già i cavi fermi fra di loro e poter lavorare tranquillamente esistono altri metodi che vi farò vedere però richiedono l'utilizzo della terza mano cosa che per esempio l'altro giorno all'interno dell'abitacolo non è stato assolutamente possibile per gli spazi erano ristretti e quindi ho dovuto fare per forza in questo modo ricordatevi se volete utilizzare la guaina termorestringente di inserirla prima altrimenti dopo non sarà più possibile allora facciamo il primo esempio utilizzando due cavi di sezione sottile quindi saremmo agevolati se arrotolassimo i cavi in questo modo così già metà del lavoro è stato fatto perché i cavi rimarranno in posizione dovremmo solamente occuparci di saldarli vi ricordo di utilizzare dello stagno di buona qualità altrimenti non riuscirete a scioglierlo non riuscirete assolutamente ad utilizzarlo per bene la prima cosa da fare è riempire la punta del saldatore con un poco di stagno in questo modo riusciremo per riscaldare un poco i cavi dopodiché potremo mettere il nostro stagno che verrà tratto anche per capillarità ok a questo punto guardiamo come è venuta il primo metodo di saldatura unire i cavi fra di loro preventivamente riscaldarli utilizzando il saldatore con un poco di stagno sulla punta in modo che il calore si diffonda molto meglio dopodiché facciamo sciogliere lo stagno sulla sua superficie una saldatura fatta bene sicuramente è anche bella da vedere questa sicuramente non sarà bella ma è una saldatura che reggerà e che permette di avere un aggiunzione dei cavi duratura un altro metodo è quello di unire i due fili fra di loro allargandoli leggermente dopodiché spingendoli uno contro l'altro in questo modo poi potremo metterli sempre nella terza mano e saldarli però facendo così soprattutto se si tratta di fili volanti non avremo la stessa tenuta che abbiamo arrotolandoli e c'è il rischio che si separino quindi se potete io comunque vi consiglio sempre di arrotolarli in questo modo avremo la certezza che due cavi rimarranno in posizione e ci permetteranno di saldare senza avere bisogno della terza mano un altro metodo che utilizzo per saldare me l'avete visto fare più volte quando ho recensito alcuni saldatori è quello di prestagnare i due cavi in questo caso però è necessario per utilizzare una terza mano stringeteli tanto quanto basta per non avere un effetto ventaglio quindi inseriamo nella terza mano posizioniamo lì come ci viene più comodo ma vi consiglio quando utilizzate il saldatore a stagno se non avete una base comunque in base a dove state saldando di mettere sempre qualcosa che protegga il piano di lavoro o che protegga voi stessi e anche in questo caso una volta raggiunta la temperatura riempio di stagno la punta vado a prestagnare i cavi come vedete per capillarità lo stagno si fonde e riesce ad insinuarsi all'interno del rame ok adesso abbiamo i due cavi pronti per essere saldati non rimane che unirli comunque affiancarli in modo da farli combaciare a questo punto riscaldo nuovamente dalla parte bassa faccio in modo che lo stagno si sciolga di nuovo un pochettino e inserisco il nuovo stagno ok adesso i due fili sono saldati quindi abbiamo diverse possibilità arrotolando i fili oppure pre stagnandoli mettendoli vicini fra di loro e poi facendo sciogliere lo stagno che interessi entrambi i cavi quindi ora guardiamo l'altra opzione di cui vi ho parlato poco fa quella di allargare i cavi e poi saldarli fra di loro quindi li metto nella terza mano e li saldo ma voglio farvi vedere da vicino questo saldatore della wenninger allora un corpo in plastica un impugnatura gommata con questa parte anti scivolo nella parte posteriore c'è l'ingresso usb di tipo c che ci permette di ricaricare la batteria questa è il led rosso quando l'accendiamo e diventerà di colore azzurro quando avrà raggiunto la temperatura quindi mentre me ne parlo vedrete anche quanto tempo impiega questo è il tasto di accensione e nella parte frontale abbiamo anche un led che illumina la zona nella quale dobbiamo lavorare come vedete l'illuminazione diffusa in modo corretto permette di illuminare sia di fronte che anche lateralmente quindi ci permette di vedere bene anche altri cavi che rischiamo di toccare con il nostro saldatore come avete visto ha già raggiunto la temperatura ideale ma è possibile utilizzarlo anche sottocarica è dotato anche di questa protezione in plastica ovviamente utilizzatela quando la punta sarà già fredda che grazie a questa sporgenza impedisce anche accensioni involontarie perché va a bloccare lo scorrimento del tastino viene venduto all'interno di questa custodia nella parte alta c'è questa retina con il cavo usb per poterlo ricaricare è una volta richiuso con la sua cerniera è possibile trasportarlo comodamente vi lascerò il link nel primo commento e nella descrizione per poter vedere il prodotto sul sito internet ed eventualmente acquistarlo cercate di evitare il più possibile che si formino delle sporgenze come vedete sto utilizzando il saldatore con il cavo di alimentazione collegato è possibile utilizzarlo sia sfruttando le batterie ma possiamo utilizzarlo come un normale saldatore alimentato da un cavo a questo punto sarà possibile mettere il nastro isolante oppure se avete scelto di utilizzare la guaina termorestringente la posizionate in questo modo e poi con l'accendino oppure soffiando aria calda possiamo farla restringere in modo da renderla isolata bello no per fare durare a lungo le punte del vostro saldatore non conservatele in queste condizioni quindi riaccendete il saldatore attendete che raggiunga la sua temperatura dopodiché utilizzate dello stagno nuovo ne sprecherete un poco ma servirà a preservare la punta riempite la punta del saldatore con un poco di stagno scuotete fate attenzione dove vado a finire lo stagno perché ovviamente è rovente e poi utilizzando una spugnetta bagnata lo pulita in questo modo un paio di volte ok la punta deve essere conservata in questo modo altrimenti si rovina e poi non riuscirete più utilizzarlo e saldatori li conservo tutti ben stagnati questa procedura proteggerà la punta dei vostri saldatori facendola durare per tanti anni quindi le cose da sapere sono davvero pochissime ma sono quelle basilari che ci consentono di riuscire ad eseguire una saldatura che altrimenti non potremmo ottenere e quindi con molta calma e molta pazienza soprattutto se non avete esperienza anche se la saldatura non dovesse venire bella da vedere comunque i cavi rimarranno uniti fra di loro la corrente passerà il segnale passerà e avrete finito il vostro lavoro ricordatevi anche di scegliere dello stagno di buona qualità soprattutto se non avete esperienza un saldatore che non abbia una punta mantenuta in buone condizioni uno stagno di scarsa qualità e soprattutto sommato mare e fatto che non avete preriscaldato i cavi sicuramente non vi permetterà di saldare quindi cerchiamo di fare le cose per bene mi si è spenta la luce potrebbe essere un passo contatto bene la salderò si è scaricata la batteria quindi stavo dicendo se non fate tutte queste procedure non riuscirete assolutamente a ottenere delle buone saldature ricordatevi però anche della sicurezza i fumi dello stagno non vanno assolutamente respirati quindi se siete in casa non avete un aspiratore aprite le finestre evitate di avvicinarvi comunque di mettervi sopra i fumi di saldatura guardate lateralmente fate in modo appunto da non respirarli ma soprattutto fate attenzione a non toccare mai la punta perché raggiunge temperature davvero molto elevate non fate mai come questa immagine perché c'è il rischio di farvi davvero tantissimo male detto questo spero che questo video con questi consigli semplicissimi per quanto riguarda la saldatura dello stagno vi siano stati utili ovviamente con il tempo riuscirete a ottenere le saldature i migliori di quelle che sono riuscito ad ottenere io io sono un hobbista non sono professionista e sicuramente delle saldature che oltre a essere fatte bene siano belle da vedere anche una bella soddisfazione quindi io vi ringrazio di avere visto questo video fino in fondo vi invito ad iscrivervi al mio canale mettete anche il like al video se vi è piaciuto l'avete ritenuto utile cliccate sulla campanella qua giù per attivare la notifica e ci vediamo a tutti i prossimi caricamenti ciao da riccardo ea presto